Siamo a farà la collezione di quest'anno. Cos'è? Anni? Venti. Della corona. Ogni quaranta. Ogni quaranta. Quanti anni della... Guarda la corona che fa durante l'orizzonte. Che è un po' biotto. Ah! C'è un po' biotto. Sta guardando adesso. Inventor. Ah, Già. Enventor. Inventora. enjoyable kinso in c�fici facile poi sono bene sliced Можно film. Ecco. Grazie.